È difficile che perdiamo così, che abbiamo fatto una buona partita e purtroppo perdiamo il gol dopo la calcio angolo. Dobbiamo pensare ora alla prossima partita che dopo quattro giorni giochiamo contro Udine, è una molto importante partita, dobbiamo andare di là e fare tre punti perché sappiamo che tutte le squadre dietro fanno punti e noi vogliamo sempre vincere. Abbiamo vinto le ultime due partite e oggi nel primo minuto ho visto che in squadra c'è fiducia, che possiamo fare punti di qua. Sappiamo che l'Atalanta c'è grande squadra, che loro sempre giocheranno avanti, che sempre vogliono fare gol e abbiamo fatto buoni 75 minuti, era un buon risultato e poi purtroppo perdiamo la partita. ora dobbiamo pensare alla prossima partita contro Udine. Sto bene, fisicamente sono forte, non c'è problemi muscolari, non c'è altri problemi. Ora ho quattro giorni per recuperare e sono pronto per Udine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.